La gioia che oggi abbiamo è il sforzo che abbiamo fatto durante tutto l'anno, contro tutte le sfiga, contro tutte le cose, i vincuti e i vigilanti un mese, all'inizio nelle spalle dei vigi, dopo con i marchetti. Questo è per me che è il primo anno che faccio solamente allenatore un orgoglio enorme. Io voglio ringraziarle anche questa vittoria a mia moglie e a Cristian che mi hanno dato la possibilità di poter tutte le notte studiare, poter stare con i ragazzi e per me questo è un onore molto grande. Se lo dico soprattutto a loro questa vittoria e che questo non si ferma a casa. Questo continua perché Spoleto è forte, perché abbiamo una squadra di ragazzi con molti talenti, con tanta voglia e spero che il pubblico di Spoleto ci segua di qua fino alla fine. Ok, ringrazio tutti, forse Spoleto mori.